pronto è pronto dottore ho chiamato per quanto riguarda l'analisi del sangue ma siamo carini sì sì ci siamo sentiti prima sono pronto ce l'avevo qua davanti stavo aspettando che mi chiamano le cose che non vanno tanto bene ok transaminase sono mentale col colesterolo non vuoi dico però i triccicciati dalle stelle e mi sa che a me è un capitone chissà non vuoi mangiare nooo sotto i natali nooo come from the other side pronto la chiamo dall'ufficio del personale per esuberi dobbiamo fare i dettagli dobbiamo licenziarla nooo sotto i natali nooo come from the other side i coi giunna del merda sta a posto? ancora non è finita guarda ma non è che è questo manco eh che è ministero dei trasporti il giorno 12 lei infrageva? euro da pagare 400 vai on sotto i natali nooo from the other side I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done pro y Grazie a tutti.